Ciao a tutti merdoni, come va? Spero tutto bene. Da un paio di settimane, la comunità italiana, è impazzita di nuovo. E sì, dopo un periodo di pace e tranquillità, si è tornati a scavare il fondo. Forse è la primavera, che ha risvegliato i falliti della società. Ma andiamo con ordine. In questo video, vi farò vedere tutti gli easter egg, riguardanti i conigli segreti, che potrete trovare in Saint Row. Se scriverete stronzate sotto questo video, vi prenderete questo pisellone dritto dritto nel culo. Avedi gabido? Fidatevi, non sarà piacevole. Ma a parte le stronzate, iniziamo subito spiegando cosa è successo. In queste settimane, si stanno moltiplicando come batteri nella merda, i video di insulti, contro altre persone. Ad esempio, uno si incazza con un altro, quell'altro piange perché non c'è più originalità su YouTube, quell'altro si lamenta della comunità, eccetera eccetera. Insomma, più che su YouTube, mi sembra di essere in un collegio femminile pieno di lesbiche, tutte emo. Allora ho pensato, chi, se non io, può spiegare alla gente come funzionano le cose? Volevate la spiegazione più totale? Eccomi, so arrivado, piacere. Il mio grande amico Terexen91, mi ha dato l'ispirazione per parlare dell'argomento originalità. L'altro giorno, un bimbo minchia nutelloso, mi scrive, Capabastana, non sei più originale, torna su Minecraft. Caro a testa di cazzo, adesso ti spiego cos'è l'originalità. Minecraft, era un gioco libero, bello, e innovativo, la sua natura, era proprio quella, di dare la libertà al giocatore, di fare quello che voleva. Si potevano fare le croci al contrario, le svastiche, scrivere baffanculo sui cartelli, e sbizzarrirsi moltissime cose. Ovviamente, è normale che, in un gioco così libero, si poteva inventare di tutto, piuttosto che giocando ad un normalissimo gioco sparatutto, dove il massimo che puoi fare, è cambiare arma e sfondare una porta a fucilate. Era proprio il gioco, a permettere di essere originali, capito? E notate bene la frase, una volta, era libero, e originale, stendiamo un velo pietoso, su cosa era una volta, e cosa è diventato oggi. Lasciamo perdere. Quindi, se vi lamentate che su YouTube, non c'è più originalità, invece di piangere come dei falliti, agite. Fate. Ovviamente, questo è dedicato a tutti i falliti della società, che incolpano gli altri, dei loro fallimenti. Esempio, c'è gente che non sa fare video, e insulta me, perché non gioco a Minecraft. Ma ce la fate? E questo, mi fa introdurre il secondo argomento di questo video, cioè, i giochi commerciali. Ma davvero pensate che i giochi si possano suddividere in categorie del genere? Dite che Black Ops 2, è un gioco commerciale, beh, cari bimbi minchia, anche Minecraft lo è, visto che ormai, è ovunque. Oh, pucci pucci, non lo sapevate? Ormai, minchia craft, è diventato un gioco commerciale. Ma io, preferisco non etichettare i giochi, come fanno alcuni falliti, perché, ogni gioco, è una storia a sé, non esistono giochi commerciali, esistono giochi che piacciono, e altri che non piacciono. Io tempo fa, feci l'errore di valutare Black Ops come una merda, senza nemmeno averlo provato. Ero così convinto, che facesse schifo, che per anni ho pensato lo fosse davvero. Poi, un giorno, l'ho provato, e me ne sono innamorato, i giochi, li dovete provare, prima di parlare. Non basta guardare uno screenshot, e nemmeno visionare un video, per capire la qualità di un gioco. Ci si può fare un'idea, ma solo impugnando il joypad, si può capire la validità di un titolo. Secondo la teoria dei falliti, anche Grand Theft Auto V, sarà un gioco commerciale, e sì, perché, il brand è ormai affermato da anni, il titolo venderà tantissimo, e una volta uscito, tutti faranno video su quello. Allora, babbi di minchia, come la mettiamo? Oh, le vostre rotelline di merda, iniziano a girare, vero? Iniziate a capire come gira il mondo, e... invece di etichettare i giochi, a seconda dei vostri gusti, fate i vostri video, senza andare a rompere i coglioni agli altri, perché, vi renderete solo ridicoli. E dopo questa bella smerdata, passiamo al prossimo argomento, cioè, i cancri di Youtube. Ogni canale, ha i suoi cancri, i suoi haters, e spazzatura varia. Come avevo detto tempo fa, questi soggetti vanno chiamati schiavi, e vanno sempre trattati male, visto che siamo sotto le festività pasquali, e bisogna scambiarsi un gesto di pace, volevo lanciare un messaggio, a quella poca feccia disumana, che mi odia. Io, sono stato il primo a portare il griffing in Italia, sono stato io ad ispirarvi, e voi, luridi stronzi, sarete solo delle copie, di copie, di copie, di copie. Quindi, è inutile che mi tirate in mezzo nei vostri video di merda, siete, e rimarrete solo delle copie maleriuscite. Ed ora, andate a piangere dalla mammina perché non fate tante visite, e sfogatevi, insultando dei giochi solo perché vendono di più. Siete immondizia liquida. Ed ora, passiamo all'argomento più gettonato, cioè, i money grabber. Devo dire la verità, invidio molto quelli che vengono insultati con questo termine, purtroppo, a me, non è mai capitato. Ho letto solo commenti scherzosi a riguardo, ma mai provenienti da bimbi merda inferociti. Quindi, per favore, insultatemi con questo termine. Ne va della mia autostima. Comunque, a parte le stronzate, andiamo a vedere cosa significa questo termine. In poche parole significa, afferrare denaro, prendere soldi, eccetera eccetera. Siccome noi italiani, che un tempo eravamo i migliori al mondo, abbiamo la brutta abitudine di arrivare sempre tardi, su tutto, si pensa che guadagnare soldi da youtube, sia un danno per la creatività di un canale, anziché l'opposto. Agagagaga oddio, vi prego, datemi un nonno, un respiratore, e posso morire in pace, agagaga. Cioè, avete capito, alcune teste di cazzo, pensano che guadagnare soldi da youtube, rovini il canale. Allora, mi rivolgo direttamente a voi. Questo inverno, quando mi si è bruciata la scheda madre, e ho dovuto tirare fuori i big money, per comprarne uno nuovo, dove eravate? Perché non siete venuti in negozio con me, e non me lo avete preso voi? E, coglioni, giustamente, mi avreste detto. Catadastana, io sono poverello, cazzi tuoi se ti sia rotto, metti via i soldi, e appena puoi te lo compri, e ripeto, avreste fatto bene a rispondermi così. Però, sapete che, senza i soldi della partnership, i miei video finivano questo inverno. E sì, perché, niente soldi, niente computer, niente video, e niente più seghe. Adesso iniziate a capire come funzionano le cose, e... e questo, vale per ogni youtuber, c'è chi fonde il pc, chi rompe le cuffie, chi compra dei giochi, chi paga le bollette, chi compra una videocamera, eccetera eccetera. I soldi della partnership, sono l'unico mezzo di sostentamento di un canale. Attenzione, warning! Non confondete la passione di far video, con il termine sostentamento di un canale. Perché il pc nuovo, non l'ho comprato con la passione, ma con i big money. Provate ad andare in un negozio, e dite al proprietario, oh my godiness, io sono uno youtuber famoso, mi dia i giochi gratis, please. Vi prenderanno a calci nel culo. La partnership, è un mezzo fantastico per sostenere i propri progetti, a lungo termine. Senza partnership, i canali chiuderebbero dopo due o tre anni, perché, la gente, non avrebbe più soldi da investire in queste cose. Immaginate voi, con la crisi globale che c'è, se uno può investire soldi, così a tempo perso. Purtroppo, tutto ha un prezzo, e se volete stare al mondo, è bene che vi svegliate e capite come funzionano le cose. La partnership, tanto odiata dai cancri, è l'unica salvezza dei canali. Ovvio, se avete dodici anni, e vi fate comprare tutto da mamma e papà, il vostro canale può durare un decennio, anche senza partnership, ma basta usare un po' di cervello per capire che, i soldi dei vostri genitori, sono l'equivalente della partnership. Senza di loro, il vostro canale non sarebbe esistito. Oh, pucci pucci, ma queste cose non le sapevate? È più semplice, dare del money grabber alla gente, e, così, tanto per fare i fighi. Per fortuna che ci sono io, che vi spiego come si vive. Guardate, mi avete fracassato talmente tanto le palle, che mi suicido. Se, col cazzo, figli della merda, avevo il paracadute pronto all'uso. Aga gaga so terribile. Allora, dove eravamo rimasti? Ah si, eravamo rimasti che avete finalmente capito come funzionano le cose, spero che questo video, possa illuminare più menti possibili. Comunque, siete liberi di pensarla come volete su tutto, cazzo me ne fotte a me, continuate pure a pensare a tutte le boiate che volete, io, dall'alto della mia esperienza, vi sto dando il punto di vista, reale, delle cose. Dopo aver vissuto tre anni, sul tubo, e aver visto cose al di fuori di ogni immaginazione, vi garantisco che, è meglio che usiate il vostro cervello, e non, quello degli altri, se non volete rimanere dei vermi, senza personalità. Ed ora, siamo arrivati al coniglio più totale. Uso questo coniglio, per fare i migliori auguri, a tutti i miei merdoni. Il mio augurio, è che possiate passare una buona Pasqua, insieme alle vostre famiglie, e alle persone che più amate. Lasciate fuori, tutto ciò che riguarda internet, e youtube, ignorate ogni stronzo su internet, che vi vuole male, o vi odia, ci penserà la società, a spezzargli le ossa, non preoccupatevi. Godetevi la Pasqua infernale, e soprattutto, godetevi la Pasqua, nella sua forma originale, cioè, dare una mano agli altri. La Pasqua, non è solo maniare l'ovetto di merda, ma significa anche dimostrare alle persone che ami, di esserci. Se avete dei nonni, andateli a trovare, se avete dei parenti, lontani, invitateli a cena, eccetera eccetera. Ora vi saluto, perché la vita è breve. Ciao a tutti merdoni, a presto. P.S. Attenti ai cazzi volanti.